Ciao a tutti dalla vostra Teresa, dall'Amabiglia e dal Giovanni. Noi vi aspettiamo dal 17 marzo al teatro Kreber di Bergamo con il nuovo spettacolo dei Lignanesi dal titolo Liberi di Sognare. Liberi di Sognare, sogniamo, sogniamo sempre, mi raccomando, è una storia meravigliosa, ritornerà il cortile dei Lignanesi, quindi ci divertiremo insieme, l'Amabiglia forse non si sa, si sposerà però, non si sa, e poi una cosa importante, bellissima, musiche, costumi, scenografie, come solo le Lignanesi sanno fare, si ballerà nei colori, nei fiori, nei fiori di Van Gogh, si ballerà con un amore così grande, una canzone dedicata all'amore, perché l'Amabiglia si deve sposare, forse non si sa, divertimento assoluto, vero Giovanni? Assolutamente sì, una meraviglia, non potete mancare, vi aspettiamo. Vi aspettiamo dal 17 di marzo al teatro Kreber con lo spettacolo nuovo dei Lignanesi dal titolo Liberi di Sognare! Ciao! 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 Ciao!